Io tanti anni fa ho mandato alla procura di Milano delle intercettazioni dove si parlava che l'andrangheta era nello stadio di San Silo, quindi per me è una novità, non è una novità, è da tanti anni che so che l'andrangheta era presente nello stadio e fuori lo stadio, che controllava tutta la distribuzione di panini, bibide, anche proprio nella gestione delle curve, per me non è stata una novità, è stata una conferma di quello che io ho ascoltato quando lavoravo in Calabria, proprio perché ho mandato anni fa delle intercettazioni proprio alla procura di Milano.